Ed ecco siamo con il dopo battita canosa Don Uva Picelle e siamo in compagnia con il nostro capitano Carlo Fasciano e veramente lo conoscete, ebbene, Di Giovinazzo che oggi ci ha fatto sognare da subito alle prime battute. E poi comincio da te Carlo Capitano, come siete scesi in campo oggi? E' stata una partita dura, siamo scesi in campo motivati, molto decisi di vincere, poi inizialmente purtroppo la palla è tonda e quindi gli episodi ci hanno messo di fronte lo svantaggio, abbiamo un grande gruppo, abbiamo Gigi che comunque ci trascina, è un grande goleador, infatti oggi ci ha fatto sognare, ci ha fatto sognare, ci ha messo subito incareggiata, anche perché comunque lo sa. Ti dà una carica pazzesca, quindi. Ecco avete visto che tribuna oggi? Bellissima. Tremita. Bellissima. Bellissima. Vero, poi iWall ha esultato. Ecco, il tuo primo pensiero, quanto hai segnato? Eh vabbè, è una dedica speciale per la mia moglie e soprattutto anche mia figlia e niente, spero di farle esultare spesso quest'anno. Ecco, quindi farai due a partita? Speriamo, non lo dico. Ecco, invece ora, portato seriamente, domenica prossima c'è un'altra partita in trasferta. Una partita tosta, difficile e niente, dobbiamo affrontarla nel migliore dei modi come l'abbiamo affrontata oggi e poi vedremo, alla lunga tireremo le zone. Ecco, una battuta sul mister, mister Vernice. No, mi abbracciò, però alla fine è finito tutto, quindi alla fine era tensione, ansia, presidente abbracciato, quindi è finito tutto, scherzando. Ovviamente, tre a uno poi. Ha riscorto tanto, eh? Fortunatamente, fortunatamente. Va bene, grazie Carlo, grazie Luigi. Grazie a voi. E bocca al lupo per la prossima. Grazie, grazie. A riederci. Grazie a voi.